La candidatura di Berlusconi non è in aperta contraddizione con quest'idea del kingmaker collettivo, del tavolo, mettiamoci tutti insieme. Ma intanto sono perfettamente d'accordo con Certo. Cioè Berlusconi serve, perché se esce avremo Berlusconi il Presidente della Repubblica, una novità assoluta, non so che cosa succederà, ma comunque se non esce serve ad affermare che il prossimo Presidente della Repubblica deve essere di centro-destra. Questa cosa qui non è pacifica, anche se in passato ci sono stati Presidenti della Repubblica di qualsiasi cultura politica, fede politica, e ai tempi della democrazia cristiana ci sono stati dei Presidenti molto conservatori. Segni e Leone erano Presidenti conservatori, quindi oggi si guarda a questa cosa che il centro-destra possa avere il Presidente della Repubblica come una cosa, ma com'è possibile? E' curioso che questa cosa potrebbe essere fatta sulla pelle di Berlusconi, anziché... Se lui non riesce a farsi eleggere, il Kingmaker è collettivo, il Kingmaker in questo momento è Salvini, è partito e non riescono a fermarlo, vedremo. Allora, grazie.